Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, è rimasto affascinato, se non incantato, dalla magia dei film d'animazione Disney. Grandi classici che nel corso degli anni sono diventati dei piccoli forzieri, che racchiudono lezioni di vita, aprono il cuore e spingono la mente verso nuovi punti di vista sul mondo. Film in grado di far avvicinare le generazioni più distanti, sebbene ognuna di loro abbia un legame unico e diverso con i film. Eppure non si può dire che tutti i classici animati Disney abbiano goduto della stessa fortuna. Sono diversi, infatti, quei classici che, sebbene siano qualitativamente paritari agli altri, sono immeritatamente rimasti dietro le quinte, cadendo nel baratro della memoria e correndo anche il rischio di essere completamente dimenticati. E così, in occasione dell'arrivo in Italia di Disney+, abbiamo deciso di dedicarci ai 10 film animati Disney più sottovalutati, pellicole animate da recuperare, dandosi la possibilità di riscoprire film passati e magari vederli con occhi diversi. Nono classico Disney, Bongo e tre avventurieri, viene realizzato nel 1947. Questo film è il quarto progetto collettivo realizzato dalla casa di Topolino ed unisce due segmenti intitolati rispettivamente Bongo e Topolino e il fagiolo magico. Il film si apre con il grillo parlante di Pinocchio che, trovattosi nel vaso di una pianta, decide di esplorare la casa che la ospita, fino a quando non inciampa in alcuni giochi, facendo riprodurre casualmente un disco. Così viene narrata la storia di Bongo. Il secondo segmento, invece, è un adattamento di Jack e la pianta di fagioli e vede protagonisti Topolino, Paperino e Pippo. Un film sperimentale e coraggioso che merita di essere riscoperto. Forse meno conosciuto del suo seguito, ovvero Bianca e Berni nella terra dei canguri, le avventure di Bianca e Berni è uno dei film Disney più dimenticati. Realizzato nel 1977, questo ventitreesimo classico Disney segue le avventure di Miss Bianca e del suo collega Berni. I due Topolini fanno parte della Società Internazionale di Salvataggio, un'organizzazione con sede a New York che intende aiutare le vittime di rapimento in tutto il mondo. Così Bianca e Berni partono per la loro missione, ovvero salvare un'orfana diventata prigioniera chiamata Penny. Appassionante, intrigante e con due protagonisti dai caratteri complementari, Le avventure di Bianca e Berni va assolutamente rispolverato. Forse uno dei film più bistrattati e controversi dell'universo disneyano. Nel 1985 Taro nella pentola magica fu un clamoroso flop al botteghino, colpevole di aver dato vita a molte polemiche per le sue atmosfere troppo horror e spaventose. E non a caso Tim Burton è un grande fan del film. Il cartone animato fu persino censurato con 12 minuti di scene tagliate, ma noi siamo convinti che Taro nella pentola magica sia un perfetto esempio della vera natura destabilizzante e oscura di molte fiabe. L'immaginario fiabesco non ha mai rinunciato a spaventare, inquietare ed educare attraverso timori e paure e questa storia ci riesce benissimo grazie a un fantasy alquanto dark. Considerato come uno dei film di transizione tra i film canonici Disney e la fase del rinascimento, Basil l'investigatopo è ispirato all'iconico personaggio di Sherlock Holmes, di cui diventa una brillante e divertente caricatura. Il film segue le vicende dell'investigatore poliziotto Basil. Tutto comincia quando a Londra, nel 1897, un topo giocattolaio si appresta a festeggiare il compleanno di sua figlia Olivia, ma Vampirello, un pipistrello maligno, rapisce il topo. Basil l'investigatopo riesce a conciliare ironia frizzante e temi classici come lo scontro tra bene e male, e va riscoperto anche per riapprezzare il bellissimo lavoro fatto con l'espressività accuratissima di ogni personaggio. Tra i vari film Disney ingiustamente dimenticati, ma di gran successo, c'è anche Oliver & Company. Realizzato nel 1988, è considerato il 27esimo classico Disney, un film d'animazione liberamente ispirato a Oliver Twist di Charles Dickens. La storia segue le orme del gattino Oliver, unico cucciolo che non è stato venduto. Diventato un randagio, Oliver inizia a vagabondare per le strade di New York, e nel corso del suo cammino. Il nostro si arrangia come può tra debiti da salvare e furtarelli per vivere. Dotato di un'ingenuità piena di candore, Oliver & Company è un concentrato di tenerezza che, fidatevi, vi scalderà il cuore. Guarda che ho ucciso per molto meno. Solo citando questa frase, in molti si ricorderanno Le Follie dell'Imperatore, bellissimo film d'animazione uscito nel 2000, esattamente 20 anni fa, che si presenta come un frizzante buddy movie disneyano. In questo quarantesimo classico Disney, Cusco è un imperatore inca narciso e viziato che, come regalo di compleanno, è deciso a regalarsi un nuovo parco acquatico costruito sulla cima di una collina. Fresco, dinamico e con personaggi irresistibili, Le Follie dell'Imperatore è uscito l'anno dopo Tarzan, dando così inizio a un decennio alquanto sfortunato per la Disney, che tra alti e bassi tornerà alla Rivalta, soltanto nel 2010 con Rapunzel. Arrivato in sala nel 2001, Atlantis non merita di affogare negli abissi in cui viene spesso relegato. Anche in questo caso, la storia ha una solida ispirazione letteraria, ovvero 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Atlantis racchiude una mitologia vasta, ricchissima di suggestioni, celando una cultura affascinante e stratificata. Per quanto l'argomento sia stato trattato più volte, il punto di vista appassionato, curioso e competente di Milo ci mette nei panni di un giovane geek interessato al mito della città sommersa. Senza dimenticare le sperimentazioni fatte con il character design dei personaggi, decisamente più spigolosi e meno morbidi rispetto al canone disneyano. Merito anche di Mike Mignola, il papà di Hellboy, che lavorò allo studio dei protagonisti e sulle ambientazioni. Come detto, gli inizi del 2000 sono stati un periodo molto difficile per mamma Disney. Nella marea di sfortuna dell'epoca, Cifini è anche uno dei cartoni animati più sottovalutati di sempre, ovvero il pianeta del tesoro. Nel 2002, il celeberrimo romanzo di Robert Stevenson venne rivisitato con coraggio e grande inventiva, declinato in una vincente chiave steampunk. Un immaginario evidentemente destinato alla sventura cinematografica, se pensiamo anche agli scarsi incassi di The Prestige o del recente Macchine Mortali. Un vero peccato, perché dal punto di vista artistico il pianeta del tesoro resta una perla di rara bellezza, grazie a uno studio maniacale delle ambientazioni, dei mezzi e del character design. Un'avventura corsara ricca di creature e di mondi, che trova il suo apice nel bellissimo e toccante rapporto tra Jim e John Silver. Se citare il gioco VedoVedo vi dice qualcosa, allora vi ricorderete di Coda Fratello Orso, film d'animazione Disney uscito nel 2004. 44esimo classico Disney, che vede anche il gioco Infinix nel cast di doppiaggio, racconta la storia del giovane Keani, un inuit che vive a stretto contatto con la natura. Una volta raggiunta la maggior età per il suo villaggio, il ragazzo riceve dalla sciamana un totem, l'orso dell'amore. Questo totem lo accompagnerà per tutta la vita, ma c'è un problema. Il ragazzo non ama gli orsi e quindi rimane deluso, salvo poi essere trasformato in quell'animale dagli spiriti superiori. Coda Fratello Orso, pur non toccando gli apici dell'epoca d'oro Disney, rimane una bellissima favola ricca di significato e con una morale dedicata all'amore verso il diverso e al rispetto della natura più pura. Se le parti dedicate agli esseri umani sono troppo canoniche, quelle con gli animali in scena sono particolarmente poetiche e toccanti. Ultimo classico Disney natalizio, realizzato con la tecnica d'animazione tradizionale, La Principessa e il Ranocchio viene ricordato soprattutto per questo, visto che dall'anno successivo, con il grande successo di Rapunzel, la Disney non ha più abbandonato la computer grafica. Con l'unica eccezione di Winnie the Pooh Nuove avventure nel Bosco dei Cento Acri che uscì nel 2011. Peccato perché La Principessa e il Ranocchio, liberamente ispirato alla fiaba Il Principe Ranocchio dei fratelli Grimm, aveva tutti gli ingredienti per diventare un altro grande classico. Con questo film la Disney dimostra in effetti di essere in una specie di terra di mezzo. Guarda il passato per orientarsi verso il futuro e lo fa con una storia a metà strada tra il vecchio e il nuovo, con il jazz che diventa una bella metafora di vita sull'importanza dell'improvvisare e del seguire il proprio istinto. E voi? Amavate già tutti questi classici Disney sottovalutati oppure no? E darete loro una seconda chance su Disney Plus? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie a tutti.